Noi non potevamo non essere presenti in Puglia con i nostri marchi, una regione molto importante del panorama distributivo del centro-sud. Siamo leader in Campania, per cui la Puglia è una regione vicina e anche vicina dal punto di vista delle tradizioni distributive e alimentari. Multicedi arriva anche a Bari e lo fa con l'apertura di sei nuovi punti vendita firmati Deco, in segna del gruppo leader della grande distribuzione organizzata in Campania e già presente in Puglia con due supermercati Deco a Foggia e a Manfredonia. Oggi grazie ai fratelli, alla famiglia Marino e anche grazie all'impegno del nostro Michele Leone, che tra l'altro è barese, quindi è un uomo del territorio, siamo riusciti a portare a termine questo primo arrivo che ovviamente ci auguriamo sia l'inizio di un'espansione abbastanza veloce. Primo passo, l'inaugurazione di tre punti vendita nella città di Bari, rispettivamente in via Bategimma, in via Orazio Flacco e in via Leonardo del Turco 2 a Palese. Il format scelto è Supermercati Deco, in segna che negli anni ha favorito l'espansione di multicedi nei centri urbani, grazie ad un'offerta attenta e soprattutto focalizzata sul fresco quotidiano. Un importante traguardo, perché è vero che abbiamo scelto un gruppo che viene dalla Campania, ma siamo sempre noi sul territorio, con la possibilità di offrire a tutti i nostri clienti un qualcosa di diverso, cioè mantenere il localismo, molto importante, però con l'aggiunta del prodotto a marchio. Tante le iniziative, gli omaggi e soprattutto i vantaggi durante i giorni di apertura e nei successivi per tutti i clienti, che richiederanno la carta fedeltà Essere Deco. I vantaggi sono molteplici, vengono fatte tante attività, non solo promozionali, ma anche attività legate a premialità, quindi si lavora molto per una forte fidelizzazione del cliente. Appuntamento il prossimo 16 aprile, in programma infatti, altre tre inaugurazioni con il format Deco Market, tipico dei punti vendita di puro vicinato. Grazie a tutti.